Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazaku e Yotatsu Oh, pagelle di Napoli-Lazio Guarda, mi stanno sul culo queste pagelle, però le facciamo, le facciamo, le facciamo Stanno sul culo perché? Allora, andiamo a vedere Alex Non sai Non sai, è una partita brutta per Alex perché è mai stato impegnato, quelle due volte che è stato impegnato era un tiro molto semplice e poi un tiro che è impossibile da parare Ma non sta neanche scritto il tiro molto semplice, non ha fatto neanche una parata Cioè quindi, ah ma sì perché i due tiri in porta e la Lazio sono il tiro salvato da Di Lorenzo e il tiro di Resino Quindi non ha fatto neanche una parata, mi ha detto Ha preso soltanto, diciamo, dei cross Eh sì, vabbè, però non so parato Eh sì Cioè non ha potuto parare Sei politico, a meno che io non te la vuoi prendere con lui per il culo Che non si era teletrasportato sulla traiettoria Beh ma tu preparati che ci saranno Vabbè, è scivo Ancora abbiamo cominciato a nuotare in questo eceano di melma, ma adesso è sicuro che molti diranno che Poteva teletrasportarsi su questo tiro Andiamo avanti Rachmani e Kim Io sono molto severo con i difensori quando prendono gol, però qui è difficile Kim fa l'ennesima partita mostruosa in cui non perde mai un contrasto in cui L'unica volta che l'ha fregata è stato Cancellieri ma oggettivamente Cancellieri era entrata all'ottantissimo Stava mal novantissimo, cioè ci sta pure che uno vada più veloce di te A quale è stata l'unica situazione in 90 minuti dove lui si è stato superato E comunque poi non ha portato a nulla il fatto che l'abbia superato perché ha recuperato subito posizione Quindi Kim partita da sette e mezzo che purtroppo sette e mezzo perché non posso dare di più A un difensore che subisce gol Ma Rachmani dico sette senza esagerare perché comunque Rachmani è un pochino meno reattivo di Kim Sempre molto buono, ma perché poi di fatto la Lazio non ha attaccato E attenzione, non ha attaccato anche perché io lo dirò, ma ti scopo sempre questo Non attaccano le squadre perché questi due tengono bene il campo da soli Cioè sono due registi difensivi che tengono bene la linea e quindi impediscono agli avversari di sfruttare gli spazi quando hanno la palla Però comunque poi di fatto è una partita che difensivamente loro non hanno giocato Li dovremmo giudicare solo in fase di impostazione Quella infatti, cioè alla fine tutti i due li vinti Cioè l'immobile è stato letteralmente annullato Kim ha mangiato in testa a Milinkovic Se a Milinkovic una sola volta ha vinto Milinkovic perché l'arbitro ha chiamato un fallo inesistente Veramente l'unica cosa che gli si può dire è che in fase di impostazione potevano essere un po' più spregiudicati, un po' più rapidi Però sono difensori centrali, ragazzi Non è che stiamo parlando dei trequartisti Io vogliamo dare un ruolo e non Sono d'accordo con i tuoi voti sinceramente Andiamo ai due terzini E qua possiamo dire qualcosina in più Difensivamente secondo me sono stati perfetti tutti e due Offensivamente potevano fare decisamente meglio Che per esempio da una parte Olivera ha avuto delle occasioni entrando dentro al campo Dove poteva tirare pure E ha un po' tentennato Di Lorenzo ha spinto ma niente di eccezionale In una partita dove l'avversario si chiude così tanto Dovevano incidere un po' di più secondo me Potevano deciderla questi due Il problema è anche stato La passività E la mancanza di Di osare Dei difensori Perché comunque Kim e Rachmani molto spesso non gliela servivano Perché avevano l'uomo attaccato alle spalle Però alla fine hanno sbagliato pochissimo Pure loro L'unica cosa che non sono riusciti a fare è rendersi pericolosi in fase offensiva Allora per me il problema principale dei due terzini stasera è che sono state purtroppo Un'indebita presenza sulle fasce Perché di fatto andavano a mettere i piedi in testa ai nostri attaccanti Semplicemente perché c'erano pochi spazi E uno potrebbe dire ma il Napoli è spesso abituato a giocare così Sì sì però stasera semplicemente non ha funzionato Stasera per esempio di Lorenzo Cioè quelle volte che si è avvicinato ad Anguissa e Lozano giocava da solo praticamente Nel senso che di Lorenzo faceva un movimento Che non lo so se lo seguiva da solo Perché certamente gli altri non lo seguivano Poi quando invece da Lozano per esempio gli faceva un'accelerazione Questo è successo almeno tre volte solo nel primo tempo Su fallo laterale Che Lozano si lancia nello spazio perché sta da solo Ma di Lorenzo non lo caga proprio Ma poi sto vedendo di Lorenzo non ha affrontato duelli Tutta la partita È quello che stavo dicendo Olivero ha almeno nove duelli, quattro Ma duelli zero su zero Cioè non ha affrontato duelli Cioè per far capire il coraggio della Lazio Sempre per tornare al discorso della Lazio Che di Lorenzo non ha affrontato un duello No di Lorenzo stasera è molto molto bravo Nelle marcature preventive Questo gli voglio dare atto Anche perché poi ha fatto l'intervento incredibile Che ci ha salvato il gol nei primissimi minuti Dove quello è un pallone che va dentro L'ha salvato Quindi sei e mezzo glielo do Olivero sei politico Semplicemente perché non è che a me abbia sbagliato qualcosa in particolare Ma incisività troppo poco Soprattutto in fase offensiva Ed è un peccato secondo me che non abbia tirato Quando doveva tirare in area di rigore Perché secondo me lì poteva fare qualcosa in più Perché poi quel pallone è buttato Troppo congestionato all'area di rigore Per dare il pallone a quel punto a Osimen Anche perché poi tutti gli stavano addosso Olivero si deve svegliare È un momento di down fisicamente per lui Però si deve svegliare Soprattutto in queste partite dove non c'è Mario Lui Andiamo dai centri rampisti Eeeh Guarda ma sono proprio difficili queste Sei pagelle Perché poi Lobotka Non ha sbagliato niente Cioè l'unico L'errore di Lobotka è che non è stato servito come al solito Perché poi quando è stato servito È sempre lo stesso Cioè non cambia niente Alla fine due passaggi Ha sbagliato in tutta la gara Ha addirittura sei passaggi lunghi Tutti sei riusciti Cioè Lobotka alla fine Qual è l'errore della sua gara? Cioè ho sentito gente parlare male Della partita di Lobotka Ma sinceramente Cioè l'errore di Lobotka Che i compagni non gliel'hanno passata più spesso In questa gara Eeeh Poi Anghissan e Zieninski invece Diciamo qualcosina in più si può dire Perché loro potevano decisamente incidere più di Lobotka Perché non avevano la gabbia Cioè mentre Lobotka stava nella gabbia L'errore erano un po' più liberi E dovevano sfruttare proprio questa cosa Che stavano tutti attorno a Lobotka Non dico che non ci siano riusciti Perché molto spesso hanno pure Fatto delle belle giocate Nello stretto Zieninski con Quara Ha fatto delle belle giocate Uno o due Dei bei triangoli Anghissan pure Si è riuscito a fare delle cose Dei movimenti in profondità Però Hanno sbagliato poco Ma Non sono riusciti a Creare chissà cosa Alla fine Quindi Eh Gli dovrei dare l'insufficienza Però boh Non lo so Allora per me Eeeh Insufficiente tra i tre È solo Frank Frank Io gliel'ho detto E ho detto a spalletti Più volte Nei video Secondo me Finché tu inci Va bene Però palesemente Frank è un giocatore Che tu stai spremendo Senza un motivo valido Apparente Perché è un C'è un giocatore Che tu stai maltrattando In questa maniera Nonostante ti stia offrendo Queste prestazioni Non dal punto di vista tecnico Perché tecnicamente Il giocatore ci sta Ma non si legge in piedi Cioè io devo vedere Il povero Frank È contro Vesino e Luis Alberto Ma riesce a mantenere Un mezzo contrasto Ma perché Cioè perché mi devi far vedere Se brutte scene Capisco che lui sia Molto importante Soprattutto in fase Di riaggressione Quando stiamo Nella tre quarti Avversaria Perché forse Quel tipo di pressing Che fa lui Non lo fa nessuno O se è Victor Però non Non giustifica Il fatto che tu Giocatore così Lo debba maltrattare In questa maniera E Che poi Non è che lui Abbia giocato proprio male Però Alcune parti Della partita È sembrato un fantasma Lobot Che sono d'accordissimo Con te Ha fatto quello Che doveva fare In tutta la partita Ha cercato di liberarsi Quando non è riuscito A liberarsi Addirittura Ha dato istruzioni A difensori Agli altri centri Rambisti Che cosa avrebbero dovuto fare Secondo me Luis fa una partita Che è giusta Non è che Dal regista Poi in partite Così tanto offensive Cioè In queste partite Il regista O diventa Un attaccante Quindi si infila Perché poi diventa Inutile Oppure cerca Di dare Un senso al gioco Cosa che ha fatto Lobo Perché poi Cioè difensivamente Lobo che doveva fare In questa partita Doveva fare niente E Zillo invece Secondo me è stato Il migliore in campo Probabilmente Perché Il migliore in campo Per coraggio E per prestazione Di per sé È Quara Ora poi ci arriviamo Quara il problema È che stasera È stato Tanto fumo E niente arrosto E invece Zillo Ha creato tanto Cioè io gli devo dare Atto In questa partita Pur Facendo Veramente Una vagonata Di stronzate La maggior parte Delle cose Che ha fatto Sono state positive Cioè i cambi Di direzione I passaggi Filtranti Il dribbling Soprattutto Nella tre quarti Mi sono piaciuti molto È il giocatore Che più ha creato A livello di Pericolosità Offensiva De facto Perché De Jure E Quara Però Quara ha fatto Quella cosa Che arrivava Sempre sul fondo Dopo aver fatto Un paio di dribbling E poi non è mai riuscito A metterli in mezzo Mai Non gli è riuscito Neanche un cross Stasera Povero Quara E quindi Per me Probabilmente Zienischi È quel migliore In campo 8 o meno E beh Stavo quando parla Di Quara Di Quara Io non ho nulla Da dire in particolare Perché io l'ho detto Ad inizio stagione Ho detto Ragazzi preparatevi Perché questo è un giocatore Che Lo si amerà Tendenzialmente Perché è quel giocatore A cui tu addossi De responsabilità È quel giocatore Che ti fa la giocata Che ti gasa Però ci saranno partite Come questa Dove Quara Con tanto coraggio Poi non riesce A ingarrare nulla Di per sé Attenzione Non voglio dire Che non abbia Veramente ingarato nulla Ha fatte come Solo che poi Questo non si è tradotto Mai veramente In chissà che occasione Un po' per i compagni Un po' per l'imprecisione Soprattutto poi Gli ultimi minuti Quara doveva essere sostituito Perché non ce la faceva più Infatti È stato Bellissimo Il vedere come Riusciva a superare Patrick e Marusic Però poi non aveva Proprio la gamba Per mettere il pallone in mezzo Cioè L'ultimo cross L'ultimissimo che ha fatto Quello che è arrivato Dall'altra parte Della bandina È stata eloquente Che Quara non ce ne aveva più Quindi io non me la prendo Colui per me Sei politico Non tanto perché Io abbia una fascinazione Per questo giocatore Che è così Ma proprio perché Io di fatto Gli devo rendere conto Del fatto che Era una partita Così tanto complicata Lui Il suo ruolo da protagonista L'ha giocato È solo che Non si è tradotto In occasioni Veramente pulite Non fa niente Non fa niente Ma infatti Mi trovi d'accordo Però Ti aggiungo Che alla fine Le partite di Quara Si leggono Più o meno Tutte allo stesso modo Cioè Quara In tutte le partite Il blocchio più attento Nota che Metà delle occasioni Le fa bene Metà delle occasioni Le sbaglia Ma come tutti I grandi giocatori Alla fine Cioè Siccome fanno Le cose più difficili Non puoi riuscire A fare tutto Perché se no Stiamo parlando Di cose che non esistono In questo sport Però Se poi vai a vedere Cioè La differenza È che Alla fine Quara Il pallone per Victor Di testa Che prende la traversa L'aveva messo pure oggi Per due centimetri Non aveva fatto Non ha fatto assist Pure in questa partita Quindi tutto sommato È sembra la stessa partita Quara Solo che A volte riusciamo a segnare Con le sue giocate Altre volte invece no Infatti è quello Che io gli avevo detto Durante la partita Con la Fiorentina All'andata In cui avevo detto Io ho il 6 Lo do a Quara Perché è una partita In cui con Dodò È stato quasi annullato Questo non è il caso Ovviamente Comunque aveva messo Lo sano da solo Davanti alla porta Sì perché Perché poi Perché poi Le sue giocate Le ha fatte lo stesso Cioè I dribbling Le hanno fatte Guardiamo il suo lato Il lato di Quara Ammonito Patrick Ammonito Marusic Cioè Il suo L'ha fatto lo stesso Sì I dribbling sui Le ha fatti lo stesso I tre passaggi chiave Le ha fatti lo stesso E dall'altra parte Possiamo dire Più o meno La stessa cosa Lo sano Solo che lo sano È stato impiegato Meno Ha sbagliato di meno Però Sta giocando Molto più largo Rispetto a Quara Che viene a giocare Pure incontro Gli sono arrivati Pochi palloni Anche perché Non arrivando palloni A Di Lorenzo Di conseguenza Arrivano pochi palloni Pure a Lo sano Cioè per assurdo Lo sano è stato servito Più da Lobotka Con i lanci lunghi Che è da dire la mente A un certo punto Lo sano Cioè io capisco La chiave tattica Dell'idea Però a un certo punto Lo sano si è trovato Quara sulla sua stessa fascia Cioè proprio Isai In qualche circostanza Di troppo È riuscito a fermarlo Più per astuzia Che per abilità Cioè tutte le volte In cui lì si è fatto Carambolare il pallone Addosso Tutte le volte In cui Isai Ha bloccato i cross Che quella è stata L'unica cosa Della partita Che non mi è piaciuta Che ogni volta Che Ciuchi Riusciva ad arrivare Al cross Poi non lo completava mai Vabbè solo in quell'occasione Quell'occasione Dove salva Provedel Con la punta delle dita Sì con le punta delle dita Quello poi era gol Era gol Era per Ciuchi Era sei politico Era assist E gol di Victor Pure là Cioè da una parte Il cross Di Quara Che si stampa Sulla traversa Sul colpo di testa Di Victor E dall'altra Cross di Lozano Che per millimetri Viene salvato Da Provedel Vabbè Però un po' Tutta la gara È andata così E a sto punto Andiamo a Victor Che Praticamente Ha giocato Pochissimo Cioè Gli sono arrivati Pochissimi palloni Si è reso Paricoloso Come fa di solito Ma stavolta Non è riuscito A buttarla dentro E purtroppo Quando tocchi Così tanto poco La palla C'hai poche chance Per diventare decisivo E quando ti capita La partita Che non la butti dentro Poi c'hai questo Cioè un giocatore Che ha giocato 90 minuti Che la porta più grande Che ha dato in tutta la gara È stato il pressing Asfissiante Per tutti i 90 minuti Tant'è che A un certo punto Si è preso pure il cartellino Perché Quasi voleva Strappare la palla Agli avversari Perché non gli arrivavano palloni Eccessiva fuoco E quindi lui Quando vuole recuperare Troppo la palla Quando si sente troppo Fuori dal gioco Perché i compagni L'hanno servito Veramente poco Anche se le due occasioni Decisive Gli sono arrivate lo stesso Stavolta Non gli è andata bene Però Cioè Può capitare Dopo nove partite Di fila Che segni Eccessiva Cioè Con le dovute proporzioni Gli succede Quello che è successo A Colombo Anini Nell'incontro Colombo Anini A un certo punto Perde la testa Perché Non riceveva più palle In realtà Come ti dico sempre A me queste partite Che fa Victor A me vanno benissimo Perché poi Anche stasera Quelle pochissime volte In cui I compagni Sono riusciti a ingaggiarlo Lui non solo Si è reso pericoloso Da solo Perché comunque I suoi tiri Lui li ha tentati Non è che io pretendo Che entrino tutti Anzi Lo sappiamo benissimo Perché noi Quello abbiamo sempre ripetuto Che Victor È un gioco tre Che sbaglia parecchio Ma c'è un giocatore Che poi segna sempre Non è che ce ne stiano tanti Quindi i suoi errori Si accettano E poi soprattutto Però si è reso pericoloso Con i compagni Questa è la cosa Che mi è piaciuto Che Victor Voi quando Quelle poche volte Che ha ricevuto la palla Molto spesso L'ha anche passata Ma non è che non è detto Che questa squadra Deba segnare solo lui Lo dico proprio francamente Sì Quindi per me pure lui Se è politico Allora Andiamo poi In Chinari Vabbè Zedatka Zedatka È stata È stata Una standing Ingovation Io mi sono alzato Quando ho visto Zedatka Entrare Però vabbè Vediamo 6 A Zedatka Per la presenza Prima presenza Lui ci voleva far vedere Quanto è forte Zedatka Che l'abbiamo visto 100% Di passaggi Allora Allora Elmas Diciamo che È entrato bene Però Quando c'è stato Bisogno di fare La giocata decisiva Ha sbagliato Due volte Perché per me Quel contropiede Doveva assolutamente Cercare almeno L'assist Era andato al tiro Ci sta Ma se poi Ti prendi la responsabilità Io in quelle situazioni Ragiono così Che se tu Ti crei l'occasione Da solo E c'hai compagni liberi Se provi a tirare Se segni Ti faccio E ti dico bravo Ma se sbagli Dovevi passarlo Perché comunque C'era Politano Da solo A destra Comunque Vittoretta Aveva fatto Il movimento In profondità Però ci sta Però Alla fine In questa posizione Centrale Dietro la punta Elmas Rende Troppo bene Secondo me Perché poi Prende palla E Punta Cioè Porta sulla squadra Con la sua Con la sua Frequenza Di corsa Che è difficile Proprio da contrastare Per gli avversari Io Il 6 glielo do Sì sì Ma pure io Ma anche perché Io per esempio Gli do mezzo vuoto In più Senza alcun problema Per l'ammunizione Che si prende Sul cancelliere Lui la per me Fa una cosa Che è giustissima Perché cancellieri L'aveva superato Ed era in porta Io quando l'ho visto Ho detto Bravo Ma infatti Qui si fa Lì Intelligente Sì Tu la devi essere Anche un po' Intelligente La cosa che mi ha Ma sorpresa Allora questa è colpa Di Spalletti Già lo dico Poi ci arriveremo Di Spalletti Ma quando poi Sono rimasti Lui in campo Da solo con Don Belè Ha fatto una cosa Che non mi aspettavo Cioè Sono sceso in cabinata Di regia Io lo sai Lo dico da sempre Secondo me Lui a fare Che non è ancora pronto Però in realtà Lui scendeva Distribuiva A me Mi è piaciuto Elmas Anche al di là Dell'errore Nel senso Non me la prendo Troppo con lui Perché mi rendo Anche conto Che Politano Non era proprio In posizione favorevolissima Però come dici tu Lui tu ti assumi Il rischio Di prendere una decisione Che se poi Si rivela Sbagliata Perché non portarla Al gol E ovviamente Sei tu che hai sbagliato Non è che il pallone Si è mosso da solo Però lì ci vuole Anche il coraggio Di prendere una scelta Quindi va bene Se non è entrato In un momento Della partita Molto complicato Don Belè Sinceramente Era in partita Oggi Cioè È entrato Ha fatto Ha mandato a vuoto Un paio di volte Dal pressing Della Lazio Poi devo dire Che Si è ritagliato Quella delle occasioni Importanti Come quel Il movimento In area di rigore Che poi alla fine Non è riuscito A fare il cross decisivo Però comunque Il movimento Pericoloso L'ha fatto Ha fatto tutto Ha vinto tutto Tutti i duelli Tutti i dribbling Tentati Sono riusciti Ha sbagliato Tre passati Comunque È entrato bene In Don Belè Rispetto a Chissà che Stava distrutto Lui Ha giocato nettamente Meglio Si Il problema Di Don Belè È che entrare In una fase Della partita In cui Il nostro centrocampo Non c'è più Quindi i difensori Invece di giocare Hanno cominciato a lanciare lungo Quindi quelle poche volte In cui lui Aveva la palla Ce l'aveva praticamente È al ridosso della linea del centrocampo Con tutta la squadra La Lazio all'indietro Quindi ha potuto fare Veramente poco E pure per lui Sei politico Simeone e politano Sinceramente Simeone mi ha fatto Mi ha fatto piacere Quando ha fatto Quel recupero Incredibile Ma abbiamo avuto pochissimo tempo Pochissimi palloni Cioè quattro tocchi Politano che praticamente Ha continuato la partita Che sta facendo Lo sano Alla fine Cioè pochi palloni Gli sono arrivati pure a lui E in alcune situazioni Poteva fare Qualcosina di meglio È stato un po' egoista Però sinceramente Non saprei cosa dirgli Troppo poco tempo Per Troppi pochi palloni Gli sono arrivati Io con Politano Dico soltanto Quello che ho detto Anche a Lo sano Al di là dell'ottima partita Che comunque ti gioca In cui da quel punto di vista Isai È troppo facile Fermare i cross Che arrivano Da quella parte Anche proprio Politano Ha avuto delle chance Veramente eccellenti Di mettere un grosso in mezzo Però Isai Bastava alzare un attimo La gamba E gli Li intercettava tutti E per Simeone L'unico problema Secondo me Passando anche Poi a Spalletti È stato che Spalletti Ormai si è fissato Con questa cosa Quest'idea Che lui con la Roma Ha fatto bene A non togliere Osimen È perché Osimen Si può sempre Mentre la giocata Ed è vero Ma Osimen Su almeno 10 partite Che gioca solo lui Per 90 minuti E poi soprattutto Simeone che deve fallare Si deve pestare i piedi Con Osimen Cioè Simeone Che gioca Al centro E non può andarsi A pestare i piedi Con Osimen Infatti non ha visto palla Cioè Se Osimen Almeno su qualche Lancio dei difensori Qualche pallone L'ha andata a cercare A prendere Cioè Simeone È stato Inutile In questa partita Completamente inutile Se non appunto Per il recupero Che andate a fare Cioè lui si è dovuto Rendere utile Certamente non come punta Quindi io dico a Spalletti Che un po' di coraggio Ci vuole È vero Che tu hai un giocatore Come Vittor Che te la puoi sempre risolvere Però tu comunque Devi avere il coraggio Di metterlo fuori Tanti in tanti A parte perché ormai Cioè Ricominciato il calcio A grandi ritmi E sto giocatore Non si può rompere Un'altra volta Perché non abbiamo Più il coraggio Di toglierlo Anche oggi Si è visto Pilloletta Antinfiammatoria Adio Cioè Non ci Io sono indeciso Non so se era una pillola O era una gomma Perché ha sputato La sua gomma Non ho capito Se era la gomma O era la pillola Però Si è messo qualcosa In bocca No Realmente a me È una figura retorica Per dire Comunque Victor In ogni partita Sta rischiando Di farsi male Quindi è una scena Che non mi piace vedere Sinceramente No Più che altro Più che altro Molto probabilmente Questa combinazione Simeone O Simen Si è venuta a verificare Semplicemente Perché è combaciato Con l'infortunio Di Raspatori Questa era proprio La partita Dove facevi entrare Raspatori Simeone Stavi in banchina Ma comunque Spalletti Cioè Alla fine Non saprei neanche Cosa Cosa criticargli Cioè Alla fine La squadra Ha giocato Come al solito Le occasioni Ce le siamo create Come al solito Stavolta Non è entrata Una Lazio Che Ha giocato Come fanno Tutte le altre Non saprei neanche Cosa Cosa Potesse fare Spalletti Per cambiare Le cose Cioè Alla fine Quando ti ritrovi Una squadra Così tanto Schiacciata È difficile Tentare Qualsiasi cosa Cioè Qualsiasi Cambio tattico Non ti Non ti Non ti cambia Chissà Quanto La partita Cioè Lui veramente Poteva fare poco Per intervenire Secondo me Allora Questo sicuramente Io l'unica cosa Che gli dico In lato Della preparazione Della partita Che quando tu hai Un'allenatore Come Sarri Che la prepara Sempre minuziosamente Soprattutto Questi scontri diretti Tu devi fare Qualcosa Per evitare Il pilota Automatico Il pilota Automatico È quello Che Spalletti Ha messo Da quando Abbiamo Ricominciato Il campionato Semplicemente Perché la squadra Parzialmente Gira da sola Non lo stiamo dicendo Da un sacco di partite Questa squadra Sempre con gli stessi Undici Praticamente Fa sempre la stessa partita E domina Questo è grazie Al tipo di gioco Che lui ha dato Però la squadra Sta andando Col pilota Automatico Cioè Spalletti Non è che prepara Ogni partita Come chissà Che storia Sì A parte ovviamente Qualche piccolo Accorgimento Cioè Tipo Qualche linea di passaggio Qualche pressing Su giocatori chiave Però a parte Queste cose qui Che sono ovvie Le partite Sono sempre uguali Del Napoli E quindi Secondo me Qualcosina A cui tu ce lo dovevi mettere Non tanto perché La Lazio Non tanto Neppure perché È uno scontro diretto Ma perché tu sai Che contro C'è una squadra Che gioca a specchio E che Ti fa una partita Che sarà Molto a romperti Il gioco Ovviamente Nessuno Credo ci si aspettava Una Lazio Così tanto ritrosa Però che avrebbe tentato Di romperci il gioco Era in dubbio E quindi Noi ci siamo trovati In quella solida situazione Dove Non abbiamo Lobotka a disposizione Perché Lobotka Viene coperto Le ali sono sempre Aggredite E quindi O un giocatore nostro Si inventa una super giocata O effettivamente Siamo sterili Offensivamente Ste partite Ora io mi rendo conto Che Non avere avuto Raspadori Come dici tu Ha distrutto Un'idea Di gioco Che ci poteva essere Che poteva essere O Raspadori Dal primo minuto O comunque Al 65esimo Tipico cambio Per rendere le cose Un po' più frizzanti Però sta di fatto Che oggi Una sorta di sterilità Offensiva C'è stata E non è nuova Cioè nel senso Non lo sappiamo È quando il Napoli Viene Attaccato così O c'è qualcuno Che si inventa La mega giocata Oppure di squadre Difficile uscirne Guarda Ti faccio Cioè ti do ragione Però Non è soltanto Un problema del Napoli È proprio Un problema Di chi domina Le partite Che prima o poi Si trova sempre Sti squadre Che Non puoi fare niente Cioè veramente È proprio difficile A meno che non ti crei La giocata Con una cosa incredibile Così Finisce Ma è il motivo Per cui Ti fiamo parecchio Per l'idea Di Di creare Spesso Delle combinazioni Di formazioni diverse Perché tu consegni Un piano partita Che poi alla fine È sempre uguale E quindi A meno che Ecco Quara Come fa Con Con la Cremonese Non si inventa La giocata Che poi Da solo Lo mette all'angolino Tu c'hai un problemino Tra virgolette È un problemino Perché comunque Questa è una squadra Che vince sempre Che poi Quando la partita Non va a tuo favore Dal punto di vista Dei singoli Di squadra Si esce poco Perché comunque L'avversario Ovviamente Cioè ha avuto Tutta una stagione Per preparare La Sarri Sta partita Giustamente Perché lo sa Com'è che gioca Il Napoli Gioca sempre Con gli stessi Gioca sempre Lo stesso modo Quindi tu Un pochino Ti potresti sforzare Per renderla Un po' più Imprevedibile La manovra del Napoli O comunque I giocatori Che scendono in campo E poi ultimissima cosa In merito alla partita Secondo me Tu fai una stronzata Quando togli il centrocampo Cioè togliere così Il centrocampo Alla squadra Con Kim e Rachmani Che a un certo punto Alla fine Non abbiamo giocato più Cioè io lo dico tranquillamente La Lazio Gli ultimi dieci minuti Se ne è fregata proprio Del Napoli Perché Kim e Rachmani Si trovavano sempre A fare lancio lungo Perché O Elmas scendeva O Arrivederci Grazia Ovviamente poi Con tutti i giocatori La Lazio Quando vedevano Elmas Scendere Gli andavano addosso Quindi poi Elmas era costretto A passarla nuovamente Al difensore Il difensore Faceva il lancio lungo E noi la perdevamo Perché poi Noi siamo abituati A giocare con questo lancio lungo Noi facciamo il lancio lungo Per la punta Noi il lancio lungo Per il trequartista Che sta laggiù E quindi Per esempio È stato Palise L'ultimissimo lancio lungo Che abbiamo fatto Di Kim Che Kim la dà Sul lato destro del campo Quando sia Simeone Sia Quara Sia Osime Stavano sul lato sinistro Quindi non c'era nessuno Che l'avrebbe presa di testa E non siamo abituati A giocare in quel modo Cioè Regalare il centrocampo Alla Lazio È stata forse La più grande baccata Della partita Ma figlia proprio Di un nervosismo Che è inutile Perché secondo me In questa partita Si poteva recuperare Con grande pazienza Ma nel momento in cui Tu decidi Togliere il centrocampo Per mettere un'altra punta Che poi ripeto Si pestano i piedi Questi due Non che non possano Giocare insieme Ma così senza preparazione Si pestano i piedi Per forza E infatti Nessuno dei due Vede più la palla E secondo me Tu dovevi rimanere calmo Trasmettere pazienza Alla squadra E dire Raga Giochiamocela Come sappiamo Però Non lo so Se avremmo segnato Te lo dico sinceramente Ma ci mancherebbe Non una palla magica Non ti poteva pure Filippo Perché altre Cioè Io la vedo più come Un tentativo Di cambiare qualcosa Che la partita Si era proprio Stagnata Cioè La Lazio Se l'ha Se l'ha impuntata Alla E purtroppo Non riusciva a sfondare Quindi è stato più Un tentativo Di cambiare Qualcosina Ma Molto ovviamente Pure Spalletti Si aspettavano Che non sarebbe cambiato Niente Alla fine Non mi è piaciuto Vedere Quella cosa Gattusiana Che i difensori Stanno a 30 metri Dal ricevitore Di palla Più vicino Quella è stata La cosa brutta Da vedere Perché più lì È normale Che o con il lancio Lungo Ti va tutto bene Oppure la partita La verdi Non è così Che il Napoli Dovrebbe giocare Perché il Napoli Poteva uscirne Da questa situazione Magari no Magari no Però se c'è un modo Per uscirne Non è questo Secondo me Perché poi Piché che altro Sai quando funziona Quando sei sicuro Che l'avversario Non esce Quello Si è venuto a creare Quella situazione Che dici tu Quando la Lazio È riuscita A sfruttare Gli spazi Che ormai Si erano creati E che stavamo Tutti avanti Se l'avversario Non esce Tu Non hai bisogno Di un centrocampo Poi così tanto Denso Perché non devi Risalire Già stai su Il problema Si è venuto a creare Quando la Lazio È riuscita ad uscire Un po' con Pedro Un po' con qualche Lancio lungo Quella occasione Di Immobile Che ha buttato La palla avanti E sono riuscito Ad uscire E quindi sì Poi lì Hai ragione Tu si è venuto a creare Questo problema Che c'era troppa distanza Tra i difensori E E gli attaccanti Però quando poi Ci siamo ritrovati In aria A dominare Alla fine L'uomo in più Può far solo comodo Secondo me In aria di rigore Con tutta È quello che io volevo dire Quando ho detto Abbiamo regalato Il centrocampo Perché se Se tu vedi che A un certo punto Esce Luisa Alberto Per fare Entrare Cataldi E tu invece Toglilo a Botka È normale che La squadra Rinforzi il centrocampo Quindi ha tutta l'intenzione Di uscire un attimo E fare in modo Che tu non palleggi più Che è quello che succedeva Cioè ho visto Elmas E Don Belé Don Belé Stava sempre un po' più avanti Perché aspettava Lo scarico da Elmas Però Elmas Che doveva fare Da solo All'improvviso Gli andavano addosso Milinkovic Vecino Luisa Alberto E poi Cataldi Lo innalza Perché Secondo me fa capire Lo dico francamente A tutti i tifosi Anche non del Napoli Che questo è L'unico tipo di partita In cui il Napoli Può perdere Cioè è una partita In cui il Napoli Non riesce a fare il Napoli Quindi non riesce Proprio a produrre Bene Pericolosità offensiva In cui la squadra avversaria Incarra Un tiro dalla distanza Fortunoso E anche buono Cioè bravo E soprattutto La squadra avversaria Fa di tutto Per non farti segnare E decide di non giocare Cioè questo è quasi E di prendere la traversa Quasi più Una dichiarazione di resa Cioè come ho dissi Dopo la partita con l'Inter È una vittoria di Pirro Come vince l'Inter Oppure questa Vittoria della Lazio È una vittoria di Pirro Cioè nel lungo andare Il valore del Napoli È molto più alto Quindi è quasi Una medaglia al valore E sta sconfitta Ovviamente dipende Poi come va Adesso io al campionato Però per come sono andate le cose Finora a me Questo è quasi Un motivo di stima Per il Napoli Come Dicemmo Dopo la sconfitta Con l'Inter Questa partita Cioè questa sconfitta Questo passo falso Diventa Importante Solo Se poi Le scorie Te le ritrovi Anche nella prossima Se nella prossima Facciamo quello Che abbiamo sempre fatto Ci mettiamo alle spalle Questa partita Come l'abbiamo fatto Con la partita dell'Inter Sì Quindi Dobbiamo solo aspettare Questa partita Con l'Atalanta Ma capito pure L'Atalanta L'Atalanta Nel momento peggiore C'è l'Atalanta Chissà se l'Atalanta Farà la partita Sua O la partita Che tutti quanti Ormai fanno Contro il Napoli Chissà Sono curioso Veramente Sono curioso E' un video pre partita Sono veramente curioso Va bene ragazzi Questo video finisce qui Fateci sapere cosa ne pensate voi Con un commento Le vostre pagelle Lasciate un like se il video è piaciuto Iscrivetevi Attivate la campanella E noi ci rivediamo In un prossimo video Forza Napoli Per la campanella